Buongiorno a tutti, oggi è il 27 febbraio 2016, qui in Aiase sono arrivate tantissime emelle come sempre, ma ci sono alcune riservate ad una cavalla. Mi chiedono tutti, ma Genziana come sta? Si è ripresa? Che fine ha fatto? Eccetera eccetera. Io adesso la vado a prendere, ve la farò vedere, è una cavalla che lavora tutti i giorni, si è messa a saltare in maniera davvero impressionante e ve la faccio ammirare in questo video molto breve dove la vedrete muovere totalmente libera. Non c'è nessun segno di zoppia, non c'è nessun segno di malessa e vi accorgerete di una cosa che sembra una cavalla totalmente diversa, sostituita, perché dietro nella sua groppa si è così riempita che è quasi a forma di cuore. Vi ricordate quando era tutta scarna, è arrivata veramente in pessimo stato, state ad osservare, adesso io la vado a prendere, voi non li muovete e continuate a seguire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete è una cavalla che vola, non posi i piedi a terra, vola. Ha un movimento bellissimo che aveva di suo già molto bello, che si è amplificato con il lavoro fatto, veramente straordinario. Da sella è una cosa spettacolare, io vado qui in IA sui percorsi veramente impegnativi, non tocca, bravissimi. Questo è il risultato del lavoro fatto con Genziana. Come sapete io non pubblico mai gli stessi video, sempre le stesse cose, altrimenti ho visto un video, li avete visti tutti. È giusto far vedere anche spunti interessanti al mattino, nell'ora e mezza che tocca a turno ogni cavallo totalmente libero. Questa è Genziana. Non so se avete visto la forma della groppa. Guardate dietro, c'è l'operatore zoom, che groppa enorme ha, tutta rotonda, è diventata veramente assai bella. Non che non fosse prima, ma adesso è veramente spettacolare. Ciao, una buona giornata e buon lavoro a tutti. e mi raccomando, trattate bene i vostri cavalli, alimentate bene e lavorateli con serietà e pazienza. Alla prossima! Ciao, una buona giornata!